Pratiamo dalla posizione di cinque. Ok. E ci stai giocando tu, quindi direi ovviamente... Attenzione! Sì, beh, certo. È dominante, ci ho giocato contro, la prima volta che l'ho visto, sono rimasto veramente basito perché, a parte le sue dimensioni, nel senso che è veramente una persona enorme, però è una persona che comunque faceva di tutto, cioè nel senso lo vedevi prendere il rimbalzo, correre in contropiede, fare un po' di show, no? Sì. Quindi è nato proprio con un talento fantastico e veramente dominante. Da quattro non posso che non metterti Tim Duncan. Ok. Per tanti motivi, no? E già. Ci ho vinto assieme, cioè, non posso elencarti tutti gli altri... Tutti gli altri motivi. Quelli che si possono raccontare, diciamo. Esatto. E poi mettiamo, da tre ovviamente, ci metto a sua maestà Michael Jordan. Sì. E da due Kobe Bryant, assolutamente. Sul ruolo di playmaker, ovviamente ti metto il magico Magic Johnson. Mamma mia, che scuola che sarebbe questo? Quindi non è che scuola che sarebbe questo.